Ciao a tutte e ciao a tutti e ben ritrovati in questo video che è il seguito di un video molto importante dove vi ho chiesto di commentare. Il video è scrivi anche tu ciò che ti suggerisco e la mia proposta era prendi uno specchio nel vero senso della parola, scrivi le parole che tua mamma, tuo papà, un tuo amico, il titolare dell'ufficio dove lavori, scrivici sopra queste parole e consegnaglielo in un pacchetto regalo. Perché? Perché tu stai dicendo a quella persona che ha nominato esattamente i conflitti che ha all'interno. Poi vi ho spiegato, fate una cosa del genere. Agite già fin da adesso, scrivete nei commenti specchio due punti e ci avete dato sotto che più non posso. Avete scritto un sacco di cose, mi ha fatto veramente contento soprattutto su youtube, va detto sono sempre lì i commenti. Ebbene io ho preso uno tra questi commenti, quello di Patrizia Gargiulo e Patrizia Gargiulo dice specchio due punti, matta, mia madre mi diceva circa 40 anni fa quando stavo per andare via da casa, se vai via da casa puoi fare solo la pu, abbiamo capito che cosa ha detto. E poi specchio due punti, un'altra. Strana perché non mi identifico con la normalità dice, perché non mi considero strana proprio perché non mi considero come loro, del loro vita dice lei, ormai non ho più alcun rapporto con fratello, sorella e i genitori sono morti, perciò nessuno che dica che sono matta o strana perché li metterei a posto subito. Cara Patrizia, io capisco la ferita può essere molto grande e sotto sotto io capisco tutto. Sto cocolando il cane se non si capisce, altrimenti fa il tremendo. Però questo senso di risentito che si respira tra le righe e guarda che dopo più di 9.000 casi che ho trattato, chi mi conosce in sessione sa perché ogni tanto lo dico, non mi interessa star qui a giudicare il commento di una persona. Il mio intento è quello di aiutare piuttosto, di essere di supporto, ma questo atteggiamento non è dei migliori. Perché? Ma vediamo un attimo, intanto a difesa anche tua Patrizia, quando una mamma dice alla figlia tu sei matta, ma sta dicendo che la sua ferita e poi di seguito la tua perché la erediterai è quella del conflitto di abbandono. Infatti il matto dei tarocchi che richiama il ventiduesimo salmo Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato, richiama proprio il conflitto di abbandono. E il conflitto di abbandono è una delle ferite più grandi che ci stanno in assoluto. E quindi stava dicendo a se stessa, guarda che io ho questo conflitto dentro me e non riesco a interagire con te. Quindi tua mamma ti stava comunicando una ferita, non ti stava offendendo, è lì che sbagliamo lettura. Ti stava comunicando io non riesco a passarti la dolcezza del femminino perché ho un conflitto di abbandono piuttosto forte. Dopo lei dice strana e infatti dice non mi identifico con la normalità. Ma il bello è potersi invece identificare con la normalità, ritrovandosi al suo centro, essere felice con tutti, anche con chi non la pensa esattamente come te, ma mostrando agli altri la tua maestria. Cioè che cosa significa questo? Che se anche siamo fuori dagli loro schemi, per mostrarci che abbiamo tra virgolette ragione, dobbiamo trasformarci al punto che facciamo gola agli altri. Altrimenti siamo strani, non dico per niente, però insomma cerchiamo di diventare un modello che gli altri vogliono imitare. La diversità ci può essere, ma deve essere un qualcosa che fa giuire l'altro nel vederti. Quindi benvenga piuttosto stare nella normalità a quel punto che stare con una lotta interiore che non finisce mai. Ora è ovvio che il mio invito è di partire ad essere un po' strani, per l'amore del cielo, però sempre lì siamo, matta, quindi fuori dagli schemi, conflitto di abbandono, estromissione, cioè uscita dal territorio, dalla famiglia, da tutto quello che è il branco, si direbbe, quello che è il linguaggio nel mondo animale, e strana è la stessa, identica cosa. Quindi la tua famiglia ha vissuto questo, ma tutte le persone, chi mi sta seguendo, tu che mi stai seguendo, bene o male, queste parole parlano anche del tuo di caso. Tra l'altro io non ho specificato, siccome da un po' che non facciamo il magico tè delle cinque, approfitto per fare il caffè delle tre e mezza per intanto, tre e mezza, quattro, quello che è. Poi riprenderemo a breve, visto che c'è chi sta dicendo, quando ritornano i magici tè delle cinque, arrivano, però questo è quello che riusciamo a fare insieme qui in ufficio. Poi dici una cosa un po' pesantuccia, cioè il rapporto con sorella, fratello e i genitori morti, insomma come se qualcosa debba stare male, cioè che sia meglio che non ci sia dialogo, va bene, piuttosto che vivere certe situazioni di disagio, io dico meglio ognuno a casa propria, ma ricordiamoci che quando tu vivi male e tua madre la rifiuti, o lei rifiuta a te, avrai solo problemi economici, perché la madre girata di spalle è una mamma, girata di spalle o tu girata di spalle, è una mamma che non ti dà i suoi seni, che non ti dà il suo latte, sappiamo bene che Bert Ellinger ci fa capire che i seni materni, i lati, diciamo dai seni o banconote sono la stessa identica cosa, quindi voglio dire, cerca magari di metterti un pochino più in pace con i tuoi genitori, tuo fratello, tua sorella o chi per loro, quantomeno dentro te. Ci sono situazioni complicatissime, io capisco, però non ti conviene. Che cosa voglio fare però? Voglio dare un rituale, è un rituale che passo durante alcune sessioni. Allora io con questo video vi voglio passare un rituale che voi potreste fare, proprio seguire alla lettera, pronunciando queste parole per un numero di giorni che decidete voi. Può essere un giorno, dieci giorni, venti giorni, quello che volete voi, quello che vi sentite voi. Caro padre, cara madre o chi per loro, ho scelto di uscire dal nido contro la vostra o la tua volontà, sono consapevole di non averti onorato. Ora ho compreso, chiedo di essere nuovamente accolta o accolto, onoro le tue decisioni e chiedo di essere di nuovo accolto o accolta tra le tue braccia. Tu sei mio padre, io sono tua figlia o figlio, madre è quello che è. Perché? Perché un rituale del genere va a riequilibrare indipendentemente da come tu la vedi, ti conviene pronunciare parole di questo genere per sistemare la faccenda, perché altrimenti rimani con i tuoi problemi. Questo è un consiglio che do a Patrizia e do a tutti. Bene, io ringrazio tutti di aver ascoltato, guardato questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro Fabio Nezzac e il caffè delle tre e mezza. Ciao ciao!